ciao benvenuti in questo nuovo episodio di my lovely wolf non vedo l'ora di proseguire la storia momentaneamente ci troviamo sul fiume siamo insieme a sebastian ma lui è molto molto freddo e distante con noi cosa sta succedendo scopriamolo subito esteban sorride dolcemente forgendomi un pezzo di formaggio che mangio con gioia ride di fronte al mio appetito certo che rendi onore al cibo e io che pensavo che ragazze magre come te si lasciassero morire di fame no non potrei mai amo troppo mangiare veniamo raggiunti dalla risatina sgradevole di samantha eccola là forse dovresti provare ad amarlo un po meno elison potresti pentirtene un giorno è pazzesco come la mia visione del futuro sia totalmente diversa da quella di samantha le sue preoccupazioni mi affascinano esteban non la guarda neanche gli occhi fissi nei miei che sia desiderio quello che vi so quando piaccio a qualcuno non è la prima volta che sento lo sguardo di esteban su di me e questa cosa darà fastidio sebastian mia madre dice sempre che la generosità di una donna si nota dal piacere che prova per le piccole cose e mi piace sentire delle curve nel toccare una donna non le ossa ok sì ci sta sotto sotto provando un pochino sento le mie guance arrossire a questo complimento appena cauffato esteban mi ricorda sara hanno lo stesso modo diretto di esprimersi oddio sarebbero una coppia bellissima un'occhiata di sebastian mi indica che si trova sul punto di esplodere cerco di calmare le acque cioè non possono mettersi a litigare qua è una situazione molto delicata cambia argomento malgrado l'allusione perfetta tua madre è molto saggia e ti ha reso una brava persona sono certa che è molto orgogliosa di suo figlio esteban continua a mangiare ma noto che la mia osservazione lo ha toccato samantha sembra disgustata come se le avessi appena rubato del cibo quanto a drogo non è ancora tornato mi sorprende che steban non faccia domande su di lui sul suo comportamento bizzarro al suo posto sarei quasi in ansia drogo non ha passato con noi nessun momento da quando siamo partiti chiunque rimarrebbe sorpreso da un comportamento del genere a meno che lui non sappia qualcosa o sospetta qualcosa e cerco di giustificarlo sebbene drogo non sia interessato ai pensieri di esteban mi sembra importante trovargli delle scuse per allontanare i sospetti drogo dovrebbe tornare a minuti è un tipo un po' solitario quasi un uomo delle caverne e steban allontana le mie parole con un gesto della mano come a dire che non importa ma strano le persone sono quello che sono preziosa finché il tuo amico drogo non ci metterà in pericolo non avrò alcun problema con lui il resto è affar suo rimango sbalordita dal suo atteggiamento rilassato considerato quanto sebastian faccia fatica a nascondere l'ostilità nei confronti di drogo è piuttosto sorprendente alla fine drogo riappare arrogante e velenoso come al solito esteban batte le mani indicandoci che è arrivato il momento di tornare alle canoe il viaggio riprende il suo corso scandito dalle grida ricorrenti di samantha che crede di vedere un piragna dietro ogni movimento ma dai è imbarazzante l'avventura non fa decisamente per lei sarebbe dovuta restare a mistery spill appunto e venire sarà al suo posto ve lo assicuro ho visto un piragna proprio là guardate sta zitta o ti getterò in acqua così potrei controllare da sola e drogo lo farebbe sorrido trattenendomi dall'offrirgli il mio aiuto le ore passano senza che sebastian pronunci parola se non per borbottare qualcosa tra sé ma quindi continua a non parlarci mi sento sollevata quando finalmente esteban ci segnala di avvicinarci alla riva scendendo dalla canoa noto che questo lato del fiume è più selvaggio dell'altro il terreno è meno praticabile invaso dalla flora che ha occupato questa parte della foresta da qui il nostro prossimo accampamento è solo a poche ore di marcia non andatevene senza l'equipaggiamento solo a poche ore e indica cinque borse ognuna del peso di circa 4 kg contenente tutto il necessario per la sopravvivenza coltelli corde macete eccetera samantha si lamenta nell'indifferenza generale da parte mia sono felice amo l'avventura mi sento totalmente nel mio elemento in effetti è troppo bello vi lascio controllare che ci sia tutto c'è un inventario all'interno di ogni borsa ricordate di controllarlo ogni volta che ci fermeremo o tirerete fuori qualcosa ritrovarsi senza acqua nel bel mezzo della giungla per esempio potrebbe rivelarsi fatale e c'ha ragione mi chino diligentemente sulla mia borsa e la so peso con un braccio vabbè dai un peso normale quattro chiletti in effetti non trascino uno zaino tanto pesante ogni giorno ma la mia vita quotidiana non ha nulla a che vedere con quella della giungla anche se dovrò semplicemente essere maggiormente prudente in terreni meno praticabili noto che steban ha anche allegato una mappa della giungla ma non include la famosa croce rossa che indica il tempio è certo quella ce l'ha solo lui invece ha indicato la riva con una freccia blu tratteggiata e diverse posizioni sono evidenziate da punti di colori diversi sposto lo sguardo su di lui con un'espressione curiosa vi consiglio di orientarvi attraverso la mappa che avete nelle vostre borse i punti colorati rappresentano dei punti di riferimento che vi aiuteranno a ritrovare la riva e le canoa doveste perdervi queste carte potranno salvarvi la vita non spregate tempo a cercare il gruppo e dirigetevi direttamente alle canoa sarà il nostro punto d'incontro qualunque cosa accada ok annoiamo quasi religiosamente non ci attende un viaggio di piacere anche se l'avevo già capito la realtà mi colpisce in piena faccia non vedo l'ora aspetto questo momento da tutta la vita faccio fatica a contenere l'eccitazione non sono più l'aspettatrice di un documentario adesso l'esploratrice sono io mentre l'ho visto nella mia borsa trovo anche una torcia elettrica una fiaschetta piena d'acqua e dei razzi di segnalazione da accendere in spiaggia per segnalare la nostra presenza presumo uno sguardo all'inventario e sono pronta a partire tutti gli strumenti di salvataggio sono lì solo per sicurezza io farò da guida mentre steban resterà indietro per assicurarsi che tutti stiano tenendo il passo e ci manca solo che qualcuno si perda tipo samanta mentre ci muoveremo per la giungla vi daremo consigli sulla sicurezza è tutto nuovo per voi ma siamo qui per supervisionarvi vogliamo che torniate tutti a casa sani e salvi e per fortuna direi non intendo morire nella giungla quindi seguirò queste istruzioni alla lettera noto che la faccia di sebastian è molto più espressiva del solito più averta gli è passato il brutto amore è come se il suo corpo emanasse una luce questo cambiamento mi fa sorridere sebastian trascorre la maggior parte del tempo nella sua uniforme da insegnante mentre ogni singola fibra del suo corpo sogna di fuggire verso paesaggi grandiosi non vedo l'ora di vederlo nella giungla nel suo elemento i sensi in allerta noto che drogo ascolta distrattamente le raccomandazioni del nostro insegnante l'immortalità offre parecchi privilegi non mi preoccupo per lui perché tanto drogo è un adulto un vampiro per di più sa cavarsela da solo ho già abbastanza preoccupazioni di mio senza dover pensare anche a lui drogo mi sorprende a guardarlo e mi rivolge un ghigno affascinante ma terribilmente fastidioso alzo le spalle mentre lui ridacchia apertamente si diverte signor bertoli le ricordo che questa spedizione non è una passeggiata nel parco abbia un po di rispetto per gli insegnamenti che le vengono dati è così raro vedere l'intoccabile drogo subire una ramanzina che provo quasi piacere drogo gli rivolge un inchino esageratamente contrito il suo ghigno sardonico non sfugge a nessuno proprio come il bagliore furioso negli occhi dorati di sebastian ma certo professore le assicuro che seguirò scrupolosamente i suoi passi riesco facilmente a percepire la minaccia celata dietro alle parole di drogo le nocche di sebastian diventano bianche nello stringere la tracolla della sua borsa oh no speriamo che non litighino potrà non essere a conoscenza dei piani di victor bertoli ma conosce la vera natura di drogo e già la sua presenza gli risulta insopportabile si guardano l'un l'altro come due bestie sul punto di gettarsi l'una sull'altra mi rendo conto con orrore che esattamente ciò che sono riesco quasi ad udirli ringhiarsi contro il ridicolo non mi sento tranquilla ho paura che litighino a drogo non piace sebastian è la cosa reciproca per non parlare del carattere esplosivo di entrambi temo che la situazione tra i due peggiorerà sono come due bombe a scoppio ritardato alla fine e contro ogni previsione è drogo ad interrompere il contatto visivo per primo ma lo conosco abbastanza per sapere che questa resa è solo apparente drogo ha un obiettivo ed è pronto a tutto pur di raggiungerlo questo non mi rassicura sulle intenzioni di padre bertoli ignorando la tensione a pochi passi da lui esteban inizia a fare un giro tra di noi per controllare la nostra attrezzatura si ferma prima di fronte a samantha non riuscendo a trattenere una risata mi dispiace deluderti sam ma non avrai la possibilità di fare una sfilata nella giungla mi avvicino leggermente e capisco immediatamente cosa intenda cioè samantha si sta ritoccando il lucido labbra la sua borsa è ancora aperta e da essa spuntano dei trucchi ma ma seriamente non esco mai senza trucco sia che vada a scuola o sia in viaggio ma non è un viaggio di piacere questo esteban cerca supporto in sebastian ma lui è troppo impegnato a calmarsi per prestare di attenzione io rimango zitta perché se no non sono affari miei samantha può fare quello che vuole si avrà mal di schiena a fine giornata sarà un problema suo la guarda infilare il kit nel bel mezzo di tutte le sue attrezzature la sua borsa sembra pronta ad esplodere samantha chica la caratteristica di un esploratore è attenersi all'essenziale il rossetto non lo è sorrido divertita dall'osservazione di esteban penso che non gli sia mai capitato di affrontare questo tipo di problemi e c'è sempre una prima volta potrà sembrarti strano ma sono una delle migliori della classe indossare il mascara non mi rende meno preparata samantha gli fa l'occhiolino lasciandomi sbalordita non riesco proprio ad apprezzare questa ragazza che non è né gentile né simpatica ma devo ammettere che ha del brio esteban non doveva aspettarsi una risposta del genere perché ora è lui ad arrossire si allontana rapidamente per venire verso di me io sono sicura di me prima di partire ho fatto tante ricerche per assicurarmi di portare vestiti adeguati pantaloni marroni aderenti in modo che gli animali non si arrampicano lungo le mie gambe e una camicia bianca per evitare di attirare il sole esteban si ferma di fronte a me e mi controlla dalla testa ai piedi noto che il luccichio divertito che di solito danza nei suoi occhi è assente sembra concentrarsi intensamente e lo apprezzo ciò che ci aspetta è molto serio ed è giusto che prenda a cuore il suo ruolo di giù di guida perfetto elisa sei pronta sembra che non faccia altro da tutta la tua vita sorrido con orgoglio come una bambina non aggiunge altro e passa drogo che supera l'esame a pieni voti è quasi tempo di partire prendiamo tutti il nostro kit di sopravvivenza andiamo seguitemi e fate attenzione a dove mettete i piedi finalmente l'avventura inizia la giungla si estende di fronte a me misteriosa attraente piena di pericoli e non potrei essere più felice faccio un respiro profondo e inizio ad avanzare dietro il mio bell'insegnante un vapore umido mi avvolge le spalle quando entro nella foresta ma non ci presto attenzione e farà caldissimo sicuramente spalanco gli occhi di fronte alla vista che mi viene offerta il cielo è quasi completamente nascosto da foglie di una densità impressionante sento cinguettare degli uccelli e ha visto due ara rosse appollaiati sul ramo sono stupendi con le loro piume scarlatte gialle e blu mi affretto a sfoderare la mia macchina fotografica prima che volino via come ricordo di questo fantastico viaggio non capita tutti i giorni di avere l'opportunità di incontrarli quindi ho intenzione di immortalare questo momento vorrei imbattermi in delle uistiti pigmeo ho letto che sono le scimmie più piccole del mondo con massimo 15 centimetri di grandezza in età adulta che carine che devono essere vivono solo in amazzonia quindi se voglio vederli ora o mai più sono pronta sono prontissima non appena ne vedrò una di passaggio scatterò fate attenzione la strada si farà più complicata da adesso in poi esteban gli si avvicina rapidamente ed entrambi estraggono il macete uh la scena segreta uno strano brivido mi attraversa la schiena mentre le lame riflettono i raggi del sole non vedo l'ora la vera avventura inizio chissà se la mia preparazione teorica mi sarà utile strizzo gli occhi abbagliata dalle lame scintillanti per osservare due uomini tagliare i primi rampicanti con un sibilo gli ostacoli cadono mollemente a terra uno dopo l'altro e steban ci facendo di seguirli e così facciamo le mie scarpe grattano il terreno mentre inciampo sulle radici sbilanciata dal peso del mio zaino riesco a riprendere l'equilibrio appena in tempo per ora tutto bene è piuttosto stancante dover stare sempre allerta ma sto iniziando ad abituarmi ci ce la farò dietro di me samanta sospira e borbotta cosa che invece di infastidirmi stranamente da coraggio mi ero preparata all'idea che sarebbe stata dura che forse sarei arrivata ad arrendermi ce la farò a tutti i costi ma devo ammettere che non è facile e ok io mi fermo qui anche con questo episodio che devo dire mi è piaciuto molto finalmente la vera avventura sta per iniziare e non so perché ma secondo me accadrà qualcosa magari a samanta visto che lei è così svampita staremo a vedere spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento se così vi ricordo di lasciarmi un pollice in su di sostegno io vi auguro una buona giornata e se vi va noi ci vediamo nel prossimo gioco ciao